Stop! Buona! 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 Vero? Poteva andare, no? No, che c'è? Che non va bene. Come non va bene? No, è... Arenette, credo che non funziona. Fammo li sognassi, italiani, no? Fammole vedere un po' tessine. Cari, in te prego sta buona, stiamo parlando, abbi pazienza. Che questa è merda vecchia. Loro adesso vogliono merda nuova. Io con queste bocce ci ho venduto i grissini, l'acqua minerale, la mozzarella di bufala. Sto a venduto i viaggi in India. Non fate sta zitta, per favore. In effetti non ha tutti i torti, cari. Cioè? Dico bene. Non saprei, a me risultano un po' burgari e zinni. Perché sei borghese? A usoso.